In una parola, è così. In a word, it's like this. Non correre sul mio conto. Don't rush on my account. Non è quello che hai detto. That's not what you said. No, richiamerò più tardi. No, I will call back later. Grazie, mi hai salvato la vita. Thanks, you saved my life. Fai attenzione a dove cammini. Dovresti essere più modesto. Succede al meglio di noi. It happens to the best of us. Lei vuole iniziare una famiglia. She wants to start a family. Grazie per avermi fatto sapere. Thanks for letting me know. È stato incurante da parte mia farlo. It was careless of me to do so. Preferirei non parlarne. I prefer not to talk about it. Lo scoprirai presto. You will find out soon enough. You will find out soon enough. Per favore, vai alla fine della linea. Please go to the end of the line. Please go to the end of the line. Grazie per l'incoraggiamento. Thanks for the encouragement. Thanks for the encouragement. È assolutamente un ricatto. That's absolutely a blackmail. Il motivo è che puoi farlo. Il motivo è che puoi farlo. Questa è la tua lettera di scuse. Questa è la tua lettera di scuse. Questa è la tua lettera di scuse. Oggi abbiamo da mangiare il curry. Today we're having curry to eat. Apprezziamo il tuo patrocinio. La prego di fare questo per me? Sei andato a letto tardi ieri sera? Sarei più che felice di aiutarti. Mi porteresti una tazza di caffè? Mi porteresti una tazza di caffè? Come va d'accordo in questi giorni? Come va d'accordo in questi giorni? Pensavo che avessi problemi di udito. Pensi che l'economia migliorerà? Ti andrebbe di bere qualcosa? Dove mangiamo? Mi rendi felice. È davvero in forma. Vorresti un bicchiere d'acqua? Mio figlio studia computer. Mio figlio studia computer. Mio figlio studia computer. Quanto costa al giorno? Devo il mio zio 100 dollari. È nei suoi abiti di tutti i giorni. È nei suoi abiti di tutti i giorni. Decise di smettere di fumare. Il tempo è più prezioso del denaro. Il tempo è più prezioso del denaro. Il tempo è più prezioso del denaro. Siamo tutti a favore di questo piano. Siamo tutti a favore di questo piano. Che bambina adorabile è. Guida più attentamente di te. Guida più attentamente di te. Scusa, ho dei piani. I computer ci fanno risparmiare tempo. I computer ci fanno risparmiare tempo. I computer ci fanno risparmiare tempo. Tale marito, tale moglie. Mi dispiace essere in ritardo di nuovo. Mi dispiace essere in ritardo di nuovo. Il nostro capo è stato licenziato. Il nostro capo è stato licenziato. Si prega di spolverare gli scaffali. Si prega di spolverare gli scaffali. Potresti aiutarmi a trovare un lavoro. Potresti aiutarmi a trovare un lavoro? Potresti aiutarmi a trovare un lavoro? Sembra giovane per la sua età. Penso che sia un caso speciale. Penso che sia un caso speciale. È un piacere incontrarti. È un piacere incontrarti. Grazie per avermi rallegrato. Dovresti mantenere la parola. Non violare le normative. Non violare le normative. Non violare le regole. Non violare le regole. Ho così tante cose da fare. Ho così tante cose da fare. Si prende cura di sua madre. 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 Perché è così lungo? Non mi interessa quello che qualcuno dice. Mi dispiace che non sia in questo momento. Mi dispiace che non sia in questo momento. Mi dispiace che non sia in questo momento. È un onore per me conoscerti. Per favore, parla un po' più forte. Questo è il modo di usare i computer. Non c'è fumo senza fuoco. Non capisco cosa intendi. Non capisco cosa intendi. Siamo interessati alla tua storia. Che cosa hai preparato per la cena? A che ora inizi l'imbarco? Puoi chiamarmi fino alle 6. Come può contattarti? Non ho voglia di mangiare niente. Per favore, inviami il documento. Con chi pensi di parlare? Non ne voglio più sapere. Qual è la differenza tra A e B? Non mangiare troppo. Mi sento bene. Abbiamo due ragazzi e una ragazza. Abbiamo due ragazzi e una ragazza. Questo perché sentiamo dolore. Sarai libero domani sera? Mi dispiace di essere stato maleducato. Vorrei ottenere un rimborso. Vorrei ottenere un rimborso. Ho pensato che fosse una corsa a casa. I thought it was a home run. I thought it was a home run. Va bene se uso la penna. Per favore, digli di chiamarmi. Per favore, digli di chiamarmi. Il mio viaggio è legato al mondo degli affari. Il mio viaggio è legato al mondo degli affari. Non hai risposto alla mia domanda. Non hai risposto alla mia domanda. Dimmi solo la storia in breve. Just tell me the story in brief. Vado a dare un'occhiata adesso. I will go give it a look right now. I will go give it a look right now. È questo il dipartimento finanziario? Is this the finance department? Is this the finance department? Vorrei una guida di lingua cinese. I'd like a Chinese-speaking guide. I'd like a Chinese-speaking guide. Sono autorizzato a fare foto qui. Am I allowed to take pictures here? Am I allowed to take pictures here? Hai già finito i tuoi compiti? Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Sono bellissimi. Sono bellissimi. They're beautiful. They're beautiful. Me ne occupo io. I'll take care of it. I'll take care of it. Decidi tu quando. Do you decide when? Do you decide when? Mi alzo dal lavoro alle diciassette. I get off from work at 5 p.m. I get off from work at 5 p.m. Ha detto che ti piace guardare i film. Tornerà tra vinti minuti. He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes.